Salve a tutti e benvenuti alla bottega didattica, sono Gianfranco Marini, do it yourself, il fai da te con le applicazioni per l'apprendimento e la conoscenza. Spero di essere brevissimo, cosa che non mi è abituale, nel presentarvi questo strumento molto semplice da utilizzare e che può essere anche molto efficace qualora abbiamo bisogno di nascondere i volti di un'immagine, di una fotografia per esempio, questo può accadere per esempio quando si ha a che fare con dei minorenni soprattutto nella scuola che io preferisco chiamare elementare o anche nella scuola media, non c'è bisogno di registrazione, non c'è bisogno quindi neanche di loggarsi, di fornire mail eccetera digitando face pixelizer, mi auguro si pronunci così, andiamo direttamente nel sito e possiamo cominciare subito a lavorare. Eccoci qua, prima di tutto dobbiamo caricare la foto, la foto non si carica ma si trascina, io lavoro sempre con due schermi, ho salvato la foto di una classe una classe come vedete d'altri tempi con un maestro dal volto severo, molto direttivo e senz'altro trasmissivo e dei bambini con la mano sul cuore ecco, supponiamo ora che per un secondo me mal riposto o senso della privacy vogliamo cancellare i volti di questi poveri bambini riducendoli tutti all'anonimato, come possiamo fare? Bene, abbiamo la possibilità di un riconoscimento automatico dei volti e quindi io ho selezionato auto e poi ho tre modalità per nascondere i volti appunto pixelandoli, vediamo subito cosa vuol dire, schiaccio su pixelize e come vedete i volti vengono nascosti posso anche procedere manualmente, vedete che alcuni di questi poveri innocenti bambini si sono salvati dalla azione distruttrice di questo erode della privacy, per cui voglio procedere manualmente, devo cancellare anche loro pixeliamo per esempio il volto di questo bambino, ecco, morto anche lui, anche lui è morto nell'anonimato posso naturalmente regolare anche la grandezza dei pixel, vedete, proviamo così e cancelliamo anche lui oppure posso usare blur per nascondere il volto, tieni, anche tu sparirai nel nulla si sono salvati dei bambini da questa strage degli innocenti e usiamo un terzo metodo, vedete, solid e quindi eliminiamo i superstiti uno, due e tre ecco, vedete, è molto semplice è scherzi, ma non troppo scherzi a parte può tornare utile in diverse occasioni terminato il nostro lavoro, possiamo anche ritagliare, ma adesso questa funzionalità massiva la mostro vedete, possiamo ritagliare una parte della foto quella che vogliamo noi ecco, supponiamo questa perché questi tre bambini ci stavano antipatici e li vogliamo eliminare ecco, applica ed ecco che abbiamo ritagliato la nostra foto a questo punto non ci resta che salvare l'immagine vedete che l'immagine viene scaricata io l'ho chiamata classe antica ed ecco la nostra classe con la strage degli innocenti bene, spero che questo tutorial vi sia stato utile vi ricordo il nome dell'applicazione face pixelizer inserirò il link nel box descrittivo del video che pubblicherò su YouTube anzi, io YouTube vi saluto e vi auguro una buona giornata